Ti dice niente palazzo Barolo a Torino? Te lo ricordi? Andiamo a Torino per scoprire un palazzo poco conosciuto che resta un po' nascosto. Oltre ad essere uno dei principali esempi di arte barocca in Italia, a Torino, racchiude una storia particolare. Si tratta di Palazzo Barolo. Al suo interno, a metà ottocento, gli ultimi marchesi che lo abitarono diedero vita a iniziative umanitarie all'avanguardia per l'epoca. Nei locali del palazzo venne realizzato un esempio di primo asilo per bambini bisognosi e poi vennero avviati progetti sociali come programmi per il recupero delle carcerate o delle prostitute. L'attività dell'Opera Barolo continua ancora oggi e il palazzo, oltre ad essere aperto alle visite, ospita conferenze e concerti. Allora, c'è da vedere anche un altro posto a Torino che si chiama Casa Scaccabarozzi. È all'angolo fra San Maurizio e via Giulia di Barolo. I toninesi lo chiamano Fetta di Polenta perché, grazie alla sua strana pianta trapezioidale, uno dei lati misura solo 54 centimetri. Ho capito? Non ti parlo di Palazzo Barolo, dell'iniziativa... Vabbè, questa invece è una curiosità. Io sono già curiosa di andarla a vedere. Mi parla di Polenta. Va bene.